Come hai avuto il lavoro della settimana? Che ovviamente squadre di questo tenore ci fanno purgare subito, però la manovra d'attacco comunque è stata abbastanza fluida, ha funzionato, nel complesso è un buon viatico in vista di mercoledì. Sicuramente su una parte chiamiamola tattica, soprattutto sugli aspetti difensivi, riguarderemo ancora magari qualche partita del Bogliasco e cercheremo di affinare ancora maggiormente la nostra unione in difesa.